Ma quello parla! Salve! Ah! La schiena! Scherzavo! Non ho una schiena! Lo perdoni, come puoi osservare, non ha neanche un cervello. In realtà non ce n'è bisogno. È troppo sopravvalutato. Per dirla tutta, io non... Oh mio! Non sto a respirare! L'ho dimenticato! Aiuto, dottor Schieraffaggio! Devi inspirare, Bob. Oh, grazie, dottore. Sei un vero salvagente. Wow! Ma guarda qui! So cosa pensi. Primo giorno dietro le sbarre, le suono subito al tipo più duro. Fammi vedere quello che sai fare. Uffh... 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 Uh-ha... 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 Uh-hah... Uh-ha... 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 Ah-ha... Uh-ha... Ah... Cident! Guardatela! È senza parole. È una Lei? Sì, Bob. Siamo in presenza del raro mostro femmina. No, ma che? È un maschio! Visto alle tettine! Dobbiamo parlare. Signori, temo che l'impressione che si sta facendo di noi non sia lusinghiera. Io le ho parlato. Il primo mostro nuovo dopo anni. Non poteva essere un uomo lupo o una mummia, o almeno qualcuno con cui giocare a carte. Possiamo chiederle il suo nome, signora? Susan. No, no, no. Intendiamo il tuo nome da mostro. Cosa urla la gente quando ti vede arrivare? Sai, tipo... Attenti! Arrivo! Susan. Davvero? Susan! Oh, mi sono fatto paura! Fa paura! Sì! La pappa! È una cosa nausea fonda. Una vecchia ciabatta! Oh, ti prego Dio, dimmi che non è vero. Ti prego, dimmi che ho avuto un esaurimento al matrimonio e ora sono all'ospedale psichiatrico e ho delle allucinazioni per colpa dei farmaci. Profissionalizzazione per l'ليci... Dopo, faccio una sorpresa! Ci prego, amico! Qu pasta non è vero! Ciao! Io la Rebecca. Ciao! Grazie a tutti.